Dopo questa lunga sosta come avremmo approcciato la partita e come avremmo giocato, la squadra diciamo che dopo un inizio forse un pochino falloso nella tecnica, nei primi controlli siamo riusciti a trovare le distanze, a cercare di rubare palla nella loro metà campo, l'abbiamo fatto diverse volte, purtroppo sfruttando poco questo enorme sforzo fisico che stavamo facendo. Siamo riusciti a fare due gol e poi come al solito non sarà da parlare di questa situazione qui, non si può regalare un calcio di rigore nel minuto di recupero dopo essere in vantaggio 2-0. Abbiamo riordinato le idee, siamo rientrati, penso che la vittoria poi l'abbiamo legittimata con questo gran gol di Vlaovic con due pali e con diverse situazioni che con un pochino più di precisione potevano essere concluse nel modo migliore. Il settembre per la sua struttura fisica magari poteva essere forse un pochino più appesantito doveva smaltire i carichi di lavoro perché lui lavorava anche dal 4 di luglio, se non sbaglio la prima squadra ha iniziato dal 4 di luglio, quindi non era in una squadra nuova di ragazzi che non conosceva, invece è arrivato sinceramente anche da sabato con il piglio giusto, con grande disponibilità, quindi io sono felice che questi ragazzi quando vengono giù vengono nel modo giusto perché devono sfruttarci, devono usare la primavera per mettere minuti nelle gambe per essere pronti nel momento in cui Piolli dovesse avere bisogno.